C'è bisogno di più verde, quello vero, quello vissuto. Vogliamo che la gestione del bosco in città rimanga d'Italia nostra. Vogliamo realizzare un percorso ciclopedonale che unisca le aree verdi del Parco Trenno, Montestella e Bosco in città. Vogliamo valorizzare e riaprire le vie d'acqua presenti sul nostro territorio. Il 15 e il 16 maggio iniziano a Nuova Milano. Sulla scheda verde del Consiglio di zona 8 vota a sinistra Ecologia e Libertà e scrivi Zambelli.